Associati olivicoltori, ben ritrovati alla settima edizione del periodico 19 febbraio 2021. Nei nostri olivetti, certamente gli abbassamenti della temperatura che abbiamo avuto tra sabato, domenica e lunedì e anche martedì, fine settimana scorsa, inizio di questa, hanno creato dei danni nei nostri olivi e rimane questo dubbio. C'è solo da valutare che la colonnina di mercurio, se si è abbassata, non è rimasta a lungo tempo sotto lo zero e questo, con molta probabilità, ha salvato gran parte dei nostri olivi, anche perché avevano già iniziato ad ingrossare e allungare le gemme nei fondovalli, nell'area dell'Alto Lago di Garda, dove le temperature sono scese meno 9 gradi centigradi, ecco, queste temperature sono rimaste per un breve periodo e se danni ci sono stati, con molta probabilità, sono solo limitati a livello foliare, avremo così, probabilmente, lo vedremo fra alcuni giorni, delle cadute di foglie. Ma c'è anche il problema dei giovani rametti, con molta probabilità possono essere stati dei danni e andremo a vederli se ci sono presenze di leggere fessurazioni che non danno particolari problemi alla pianta dell'olivo, però potrebbero essere una via di penetrazione per dei patogeni, quali la rogna dell'olivo e i cancri rameali, soprattutto questi ultimi, da sopralluoghi che abbiamo fatto durante il novembre, dicembre e anche pochi giorni fa, abbiamo avuto che c'è stata una recrudescenza. Ne abbiamo riportato le immagini sul nostro periodico, andatele a vederle perché hanno un aspetto più che descrittivo, didattico, visivo, in modo che se andate nei vostri olivi avete la possibilità di valutarli e di confrontarli. Che cosa fare allora? Anche se non abbiamo ancora eseguito le potature, sarebbe consigliabile effettuare un trattamento con dei prodotti rameici nelle ore più calde della giornata e potrebbero anche sembrare superflui questi, ma è sempre meglio prevenire che valutare dopo la diffusione di queste malattie, soprattutto nel lago di Garda, con la presenza della rogna dell'olivo molto diffusa e sull'area del Trevigiano, dove abbiamo avuto nel 2017-2018, importanti presenze di cancri rameali e questo batterio e funghi sono ancora ben presenti. Non dobbiamo illuderci che il freddo invernale ne abbia limitato le capacità infettive. E adesso un buon risentirci alla prossima settimana.